Ciao ragazzi, bentornati in quest'altro video. Oggi voglio continuare con voi l'argomento sullo studio di funzione. Vedremo la funzione razionale fratta con tutti i vari step per studiare effettivamente tale funzione. Gli step che andremo a studiare sono gli stessi che abbiamo affrontato la volta scorsa per la polinomiale. L'unica cosa, l'unica eccezione rispetto alla volta scorsa è che ora, successivamente al dominio, andremo a studiare il segno della funzione anche perché questa ci può dare delle informazioni che ci fanno evitare alcuni calcoli successivi, ovvero ad esempio per il pari e il dispari. Però questo di cui sto parlando ve lo mostro nell'esempio in modo tale che voi possiate capirlo al meglio. La funzione che voglio studiare con voi sarà f di x uguale 1 più x al quadrato fratto 1 meno x al quadrato. Allora, come dicevamo la volta scorsa, il primo step facciamo il dominio. In questo caso, essendo comunque una funzione fratta, dobbiamo andarci a studiare il denominatore e lo dobbiamo porre diverso da 0. Inoltre ci accorgiamo che il denominatore lo possiamo anche scomporre come una somma per differenza. Quindi andiamo a scrivere 1 meno x per 1 più x, tutto diverso da 0. Quindi vorrà dire che x deve essere diverso da più o meno 1. Quindi il suo dominio lo possiamo anche scrivere come meno infinito meno 1, meno 1 più 1 e poi più 1 più infinito. Ovvero, ancora un altro modo per scriverlo, lo possiamo anche scrivere come per ogni x appartenente ad r, eccetto questi due punti, quindi meno più o meno 1. Allora, facciamo una piccola bozza del nostro disegno così da capire effettivamente quello di cui stiamo parlando. Allora, qua dice che il dominio è per ogni x appartenente ad r, quindi sicuramente si troverà o nel primo quadrante, nel secondo, nel terzo o nel quarto, però eccetto questi due punti. Quindi io vado a segnare meno 1 e più 1 e segno una sorta di linea, perché sicuramente so che la nostra funzione non può passare per meno 1 o per più 1, perché appunto lo abbiamo esclusi dal nostro dominio. Poi andiamo a vedere effettivamente il segno della funzione, così da capire dove possiamo, cioè se possiamo cancellare qualcosa. Dobbiamo prendere la nostra funzione e porla maggiore di 0. Quindi 1 più x al quadrato fratto 1 meno x al quadrato maggiore di 0. Essendo fratta, ci andiamo a studiare il numeratore e il denominatore. Allora, facciamo numeratore. Il numeratore va studiato sempre maggiore di 0, quindi 1 più x al quadrato maggiore di 0 e anche il denominatore, quindi 1 meno x al quadrato maggiore di 0. Allora, nel primo caso possiamo vedere che abbiamo un quadrato e poi un più 1 più 1. Noi sappiamo che in questo caso, diciamo, questa somma sarà sempre maggiore di 0, quindi per ogni x appartenente ad R. Possiamo anche scriverlo direttamente. Oppure vi potete andare a studiare anche il delta e poi effettivamente capire qual è la soluzione. Questo, infatti, lo facciamo al nostro denominatore, ovvero iniziamo a scrivercela diversamente, ovvero meno x al quadrato più 1 maggiore di 0 e poi vado a cambiare i segni, x al quadrato meno 1 minore di 0. Vado a studiarmi il delta, quindi delta sarà uguale a b al quadrato che non ci sarà, meno 4ac, ovvero 4. Quindi abbiamo una disequazione minore, un delta maggiore di 0 e le soluzioni saranno quelle che avevamo preso anche nel dominio. Quindi noi possiamo anche scrivere direttamente che le soluzioni del nostro denominatore sono delle soluzioni interne. Perché, come dicevo, disequazione minore di 0 delta maggiore, quindi la x deve essere compresa tra meno 1 e 1. Quindi andiamo a fare questo piccolo grafico. Quindi mettiamo meno 1, 1, abbiamo il numeratore che era per ogni x, invece il denominatore che è compreso. Allora, vediamo che il primo tratto, ovvero quando x è minore di meno 1, è negativo. Quando è compreso è positivo, quando è maggiore di 1 è negativo. Quindi questo che cosa significa? se noi andiamo sul nostro disegno, allora possiamo iniziare a cancellare qualcosa. Quindi abbiamo detto quando è minore di meno 1 è negativa, quindi io cancello la parte positiva. Poi compreso è positivo, quindi io cancello la parte negativa. Quando è maggiore di 1 è negativa e io cancello la parte positiva. Ora, quello che possiamo subito vedere è che la nostra funzione che troviamo sicuramente non potrà essere dispari, anche perché non potrà mai essere simmetrica rispetto all'origine. L'unica cosa è che questa funzione può essere pari, perché può essere simmetrica rispetto all'asse delle y. Però noi effettivamente ora lo andiamo a studiare e vediamo effettivamente se la nostra funzione risulta essere pari oppure non lo è. Allora, per essere pari abbiamo che la nostra funzione f di x deve essere uguale a f di meno x. Quindi, allora, 1 più x al quadrato fratto 1 meno x al quadrato deve essere uguale a 1 più meno x al quadrato fratto 1 meno meno x al quadrato. Allora, la prima me la vado a riscrivere. La seconda faccio i calcoli, ovvero abbiamo che meno x al quadrato diventa più x al quadrato, la stessa cosa anche qua. Quindi diventa un più, più per meno meno. Quindi ci siamo assicurati che la nostra funzione risulta essere pari. Ora andiamo a vedere invece le intersezioni con gli assi. Allora, facciamo 1 più x al quadrato fratto 1 meno x al quadrato uguale 0, ovvero quando y è uguale 0. E poi facciamo y uguale 1 più x al quadrato fratto 1 meno x al quadrato e poniamo x uguale 0. Il secondo caso è molto più immediato, perché quando x è uguale 0, y sarà proprio uguale a 1, perché vado a sostituire lo 0 qua e viene 1 fratto 1, quindi 1. Ovvero abbiamo ottenuto un punto A che sarà di coordinate 0 e 1. Invece andiamo a studiare il primo caso. Allora, noi vediamo che abbiamo sempre una fratta, però la, diciamo, condizione di esistenza già l'abbiamo studiata nel dominio, quindi possiamo anche scrivere direttamente 1 più x al quadrato uguale 0 e y uguale 0, così da andare a studiare solamente il numeratore. Allora, cosa possiamo fare qua? Ci andiamo a trovare il nostro delta. Delta sarà uguale a b al quadrato, che non ci sta, e poi meno 4c, quindi meno 4. Quindi delta sarà minore di 0, vorrà dire che non avrà soluzione. Quindi la nostra curva non interseca l'asse delle ascisse. Però abbiamo trovato il nostro punto A, 0, 1, e lo andiamo a mettere nel nostro disegno. Quindi questo è il nostro punto A, 0, 1. Come quinto punto andiamo a studiare i limiti. Ovvero, se ci ricordiamo il nostro disegno, come limite possiamo prendere il limite per x che tende a 1 da destra e il limite per x che tende da 1 da sinistra. Poi ci prendiamo anche il limite per x che tende a più infinito. Essendo una funzione pari ci andiamo a studiare quindi questi tre limiti. Allora, la nostra funzione era 1 più x al quadrato fratto 1 meno x al quadrato e la stessa cosa anche per gli altri. Allora, quando abbiamo 1 andiamo semplicemente a sostituirlo qua dentro per vedere il risultato. Quindi facciamo 1 più 1, 2, 1 meno 1, 0. La stessa cosa se volessimo mettere anche 1 da sinistra, quindi viene sempre 2 fratto 0. Ora dobbiamo capire effettivamente se ci darà un più infinito oppure un meno infinito, perché noi ci ricordiamo che un numero fratto 0 sarà infinito. Allora, nel primo caso, quando x tende a 1 da destra, possiamo anche scrivere 2 fratto 0 con il meno, infatti uscirà proprio meno infinito. Invece, nel secondo limite sarà proprio l'opposto, ovvero qua andiamo a scrivere più, infatti uscirà più infinito. Invece, come affrontiamo quando abbiamo un limite per x che tende a più infinito? Allora, siccome il numeratore e il denominatore hanno lo stesso grado, quindi nessuno prevale sull'altro, lo dobbiamo mettere in evidenza, ovvero dobbiamo fare in modo che questa x al quadrato scompare sia dal numeratore che dal denominatore. Quindi facciamo x al quadrato e x al quadrato. Dentro, quindi come se io lo stessi raccogliendo, e quindi faccio 1 fratto x al quadrato più 1, e poi al denominatore invece 1 fratto x al quadrato meno 1. Così x al quadrato e x al quadrato lo semplifico, e poi successivamente vado a portare il più infinito, cioè vado a sostituire il più infinito dentro la x al quadrato. Quindi abbiamo un numero fratto infinito, viene 0, 0 più 1. Al denominatore invece viene 0, meno 1, meno 1. Quindi il risultato proprio finale sarà meno 1. Allora, noi ci ricordiamo che quando abbiamo il limite per x che tende a più infinito e ci dà appunto un numero, è come se questo fosse proprio y uguale meno 1, ovvero abbiamo ottenuto un asintoto orizzontale. Quindi prima di dimenticarlo lo andiamo a segnare anche già nel disegno. Quindi abbiamo y uguale meno 1 che si troverà qua e qua creiamo appunto il nostro asintoto orizzontale. Quindi vorrà dire che anche questo pezzo io lo posso andare ad eliminare e anche quest'altro pezzo, perché la nostra funzione sicuramente si troverà più qua sotto, la stessa cosa di qua. Quindi come ultima cosa andiamo a vedere appunto la derivata prima e la derivata seconda per vedere effettivamente il massimo, il minimo, se è crescente, se è decrescente e le concavità. Quindi mi vado a riscrivere la funzione f di x uguale 1 più x al quadrato fratto 1 meno x al quadrato e la derivata sarà. Questa è un rapporto, quindi dobbiamo fare derivata del numeratore sarà 2x per il denominatore normale, poi meno numeratore normale per la derivata del denominatore, quindi meno 2x tutto fratto il denominatore al quadrato. Quindi facciamo i calcoli, 2x meno 2x al cubo più 2x più 2x al cubo, tutto fratto 1 meno x al quadrato tutto al quadrato. Quindi questo e questo lo semplifichiamo e viene proprio 4x fratto 1 meno x al quadrato tutto al quadrato. Ora, la cosa che dobbiamo fare è porre la derivata uguale 0, ovvero facciamo 4x fratto 1 meno x al quadrato tutto al quadrato uguale 0. Il denominatore, come avevamo fatto precedentemente, lo possiamo eliminare direttamente, tanto avevamo già studiato il campo di esistenza. Quindi ci prendiamo direttamente il numeratore e facciamo 4x uguale 0, ovvero x uguale 0. Ora, trovata la x però, trovata la x però dobbiamo andarla a sostituire nella funzione per trovare la y. Quindi facciamo f di 0, andiamo a sostituire lo 0 qua dentro e quindi abbiamo 1 più 0 fratto 1 meno 0, quindi viene proprio 1, ovvero abbiamo ottenuto un punto, che io chiamerò b, che avrà coordinate 0, 1. Ora, invece, dobbiamo andare a porre la derivata però maggiore di 0, quindi f' di x maggiore di 0, ovvero 4x fratto 1 meno x al quadrato tutto al quadrato maggiore di 0. Allora, essendo fratto, ci andiamo a studiare sempre il numeratore, ovvero 4x maggiore di 0, quindi x maggiore di 0, e il denominatore, ovvero 1 meno x al quadrato tutto al quadrato maggiore di 0, dove il denominatore, essendo comunque un quadrato, sarà per ogni x appartenente ad r, eccetto meno 1 più 1 che mi farebbero annullare questa tonda. Quindi andiamo a fare il nostro disegno per vedere effettivamente dove dobbiamo posizionarci, quindi meno 1, 0 e più 1. Allora, abbiamo il numeratore, andiamo verso destra perché è maggiore di 0. Poi abbiamo per ogni x appartenente ad r, escluso però, meno 1 e più 1. Questo sarà meno, negativo, quindi andiamo con la freccia verso il basso. Poi anche qua meno, andiamo con la freccia verso il basso, positivo andiamo verso l'alto, positivo andiamo verso l'alto. Questo che cosa vorrà dire? Che la nostra funzione f di x sarà crescente quando la x è compresa tra 0 e 1 e poi quando la x è maggiore di più 1. Invece sarà decrescente quando la x è compresa tra meno 1 e 0 e quando la x è minore di meno 1. Invece, poi ci accorgiamo che in 0, quindi questo punto che abbiamo trovato, b01, è proprio il minimo, poiché appunto si troverà proprio in questo punto. Come ultimo punto andiamo a vedere la derivata seconda. Ovvero, mi rivado a riscrivere un attimo la derivata prima, che era 4x fratto 1 meno x al quadrato tutto al quadrato e andiamo a fare la derivata seconda. Quindi, anche in questo caso, derivata del numeratore 4 per 1 meno x al quadrato tutto al quadrato, meno 4x per la derivata del denominatore. Quindi, dobbiamo fare prima la derivata della potenza, ovvero viene 2 e poi ci scriviamo quello dentro normale, quindi 1 meno x al quadrato elevato alla 2 meno 1. Poi, dobbiamo fare la derivata di quello che sta dentro, ovvero la derivata di 1 e 0, invece qua viene meno 2x. Tutto fratto 1 meno x al quadrato alla quarta, perché dobbiamo fare il quadrato del denominatore. Scrivendolo diversamente, possiamo scrivere come 4 per 1 meno x al quadrato, tutto al quadrato, più 4x al quadrato, per 1 meno x al quadrato. E poi ci facciamo i calcoli. Allora, andiamo a fare qualcosa al numeratore. Andiamo a fare il quadrato di binomio, quindi 1 più x alla quarta, meno 2x alla seconda, più 4x alla seconda, meno 4x alla quarta. Tutto fratto 1 meno x al quadrato, uguale. Quindi viene 4 per meno 3x alla quarta, poi abbiamo un più 2x alla seconda e poi più 1 fratto 1 meno x alla seconda, alla quarta. Allora, facciamo sempre la derivata seconda, uguale 0. Allora, la derivata seconda me la vado a scrivere in maniera diversa, per semplificare un po' i calcoli. Ovvero, faccio 4 per 3x al quadrato più 1 fratto 1 meno x al quadrato alla terza. Ho semplicemente trovato la scomposizione adatta al numeratore e l'ho semplificato con il denominatore, giusto per ridurre un po' i calcoli, per semplificare un po' i calcoli. Poi lo poniamo uguale 0, quindi abbiamo che il denominatore l'avevamo già visto prima e lo voleviamo. Quindi facciamo 3x al quadrato più 1 uguale 0. Andiamoci a studiare il nostro delta, che verrà però negativo, perché viene meno 12. Quindi per tale motivo possiamo dire che non esiste x appartenente ad r, ovvero la nostra funzione non avrà punti di flesso. Invece, ora ce l'andiamo a studiare maggiore di 0 per vedere la concavità. Quindi ci prendiamo sempre 4 per 3x al quadrato più 1 fratto 1 meno x al quadrato alla terza maggiore di 0. Andiamo a studiare il numeratore, quindi 3x al quadrato più 1 maggiore di 0 e poi il nostro denominatore. Allora, per quanto riguarda il numeratore, possiamo vedere che sono sempre dei quadrati, quindi il nostro numeratore sarà sempre positivo. Quindi possiamo scrivere direttamente per ogni x appartenente ad r. Il denominatore, invece, andiamo a studiare 1 meno x al quadrato maggiore di 0, che avevamo già studiato precedentemente. Quindi ci prendiamo la soluzione, ovvero che x deve essere compresa tra meno 1 e 1. Questo però che cosa significa? Andiamo a fare il nostro disegno, quindi sempre meno 1 e 1. Abbiamo un numeratore per ogni x, denominatore che è compreso. Quindi abbiamo che il primo tratto è negativo, ovvero concavità verso il basso, positivo verso l'alto, negativo verso il basso. Allora, fatto quindi tutti questi calcoli, abbiamo visto tutto, andiamo a concludere il nostro disegno. Allora, la derivata prima ci aveva detto che questo punto, ovvero 0,1, che io avevo chiamato anche b, quindi lo chiamiamo anche b, era un punto di minimo relativo. Inoltre, noi sappiamo che deve essere pari e quindi la possiamo fare in questo modo, anche perché la derivata seconda ci aveva detto che quando era compreso tra meno 1 e 1 aveva la concavità verso l'alto. Invece, quando è minore di meno 1 e maggiore di più 1 ha concavità verso il basso e quindi noi lo facciamo più o meno in questo modo. E quindi questo sarà il nostro disegno finale della nostra funzione. Quindi con questo disegno abbiamo terminato, spero di essere stata chiara e che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo domani. Ciao!